Rapporti economici normali fra persone. Per cui prevedere, come questo emendamento, che qualora una compagnia pretenda di inserire una cosa di questo genere sia considerata una clausola vessatoria e quindi nulla, ci sembra un modo per tutelare i consumatori e anche per tutelare la concorrenza. Perché, ripeto, fra gli autoriparatori concorrenza ce n'è sicuramente. Fra le polizze, fra le compagnie assicuratrici, di concorrenza ce n'è pochissima e anche quella apparente, come quella delle telefoniche, per esempio, è appunto apparente. Tant'è che ogni compagnia tradizionale controlla poi una propria compagnia telefonica e anche questo non sarà un caso. Grazie. La ringrazio. Non mi pare ci siano altri interventi su questi identici, quindi li pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Gagnarli. Bene, mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 119 favorevoli, 304 contrari, la Camera le spinge. Andiamo al 3.07. Pesco, parere contrario, Commissione e Governo. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Andiamo al 3.07. Pesco, parere contrario, la Camera le spinge. D'Adone. Sgambato. Sgambato. Chi altro non riesce a votare? Sgambato. 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 Prima dico quali sono da adesso in avanti gli emendamenti favorevoli. Quindi sono tutti contrari tranne? Tutti contrari. Ah, va bene, allora facciamo. Da adesso in avanti, se mi consente, tutte le volte che ci saranno. Sì, sì, ma non c'è problema. Per articolo 4 sono tutti contrari gli emendamenti. Abbiamo fatto più volte. Il Governo? Conforme. All'Asia, lei vuole intervenire come relatore di minoranza sui pareri? Prego. Grazie, Presidente, se me lo concede. Sì, sì, prego. Articolo 4, emendamento 4.1, favorevole, 4.2 contrario, 4.3 contrario, 4.4 contrario. Proseguo sul bis? Sì. 4.01 contrario, 5.1... No, basta, basta, le 5 poi facciamo articolo. Scusi, grazie. La ringrazio. Allora, quindi siamo al 4.1, paglia, pareri contrari di Commissione e Governo, favorevole in relazione.